Due mesi prima delle elezioni amministrative dell'8-9 giugno, Fano sceglierà il suo candidato a sindaco per il centro-sinistra attraverso le primarie. Il 7 aprile gli elettori di centro-sinistra della terza città delle Marche saranno infatti chiamati a scegliere fra quattro candidati per altrettanti assessori uscenti della giunta seri, vale a dire Cristian Fanesi, Etian Lucarelli, Samuele Mascherin e Cora Fattori. Primarie che sono state illustrate oggi in una conferenza stampa tenutasi al bar d'Axi in piazza 20 Settembre. Abbiamo tenuto il centro-sinistra unito nella nostra città ed è il centro-sinistra che in questi anni con il sindaco Massimo Seri ha governato la città. Sono state realizzate tante cose, la città è cresciuta, 250 milioni di investimenti in questi 10 anni, 140 milioni sono in corso d'opera proprio in questo periodo di tempo e quindi nel tenere il centro-sinistra unito abbiamo voluto dare voce ai cittadini fanesi, ovvero i cittadini fanesi sceglieranno chi sarà il candidato sindaco del centro-sinistra. È un modo democratico per non far scegliere il candidato nelle segrete stanze oppure candidati che vengono scelti fuori dalla città di Fano, come capita peraltro al centro-destra, sapendo che il candidato del centro-destra in questo momento è un candidato che soprattutto all'inizio ha insistentemente detto di no, oggi invece fa il candidato perché magari lo vogliono a Dancona o a Roma, invece qui a Fano decideranno i cittadini fanesi che il 7 di aprile saranno chiamati a decidere dalle 8 alle 20 nei seggi che poi verranno successivamente comunicati chi sarà il candidato sindaco per il centro-sinistra. Finalmente partono le primarie, le abbiamo aspettate tanto, un momento di confronto democratico e di collaborazione anche con i miei colleghi e non di scontro. Questo è uno stimolo per fare sempre meglio e sempre di più nell'interesse della città. Abbiamo tanti progetti con il sorriso sulla bocca e speriamo di poter ascoltare tutta la città per poter fare il meglio. In questo anno, che è stato velocissimo, già tante cose sono state fatte, anche significative e anche non banali. Immaginiamoci in cinque anni se ci dessero fiducia agli elettori. 7 di aprile, una data ovviamente che sarà importante per tutta la città, non solo per quattro candidati. Ci aspettiamo una partecipazione di migliaia di persone e ovviamente per noi è importante ribadire che il candidato o la candidata del centro-sinistra sarà scelto appunto da migliaia di persone, non da poche persone chiuse in una stanza a Fano o in altre città. In questi anni mi sono occupato sia di lavori pubblici che di urbanistica, arrivando ad adottare un nuovo piano regolatore per la città di Fano. Sono scelte importanti che questa comunità deve continuare a fare avendo una visione a lungo respiro, perché Fano nel contesto delle città medio-piccole di questa regione deve emergere e per emergere deve fare scelte coraggiose. Quindi mi candido affinché queste scelte possano essere fatte, mi candido per continuare il lavoro con passione e determinazione, mettendoci la competenza e comunque all'ascolto della città e quindi mi candido perché questa città sia migliore rispetto ad oggi. Sicuramente il civismo in questi anni ha saputo esprimere un valore importante di vicinanza alle persone, di esprimere il concetto del fare per la città. Oggi ci troviamo insieme a tutta la maggioranza per esprimere la nostra voce a ricercare una candidatura forte che possa rappresentare meglio il centro-sinistra, devo dire con degli amici con i quali abbiamo fatto un percorso insieme e con i quali bisogna dare continuità ai grandi progetti che abbiamo portato avanti, ma anche saper guardare le nuove tematiche del futuro.